Ciao, sono Caterina Pancotto della First Comunicazione e ti do il benvenuto in questa serie di video che ho preparato appositamente per te, per guidarti passo dopo passo a creare le tue strategie comunicative vincenti e riconoscibili per il tuo business. Nelle scorse sessioni abbiamo affrontato diversi argomenti, ma tutti riguardanti le varie forme di comunicazione che sapientemente unite e mixate tra di loro danno vita a queste strategie riconoscibili e vincenti. Per cui oggi tratteremo un tema molto importante. Lo abbiamo detto sin dall'inizio, fare comunicazione potrebbe essere semplice ma a volte complesso. Il tutto dipende da come lo facciamo. E allora come navigare in questo grande oceano che è il mondo della comunicazione? Si dice che nessun vento è favorevole per un marinaglio che non conosce la propria destinazione. Ma qual è la vostra destinazione, il vostro obiettivo in campo comunicativo pubblicitario? A volte neanche le aziende più blasonate sanno dove poter andare e soprattutto con quali mezzi arrivarci. E per far questo, per rispondere a questa domanda, la prima cosa che dobbiamo fare è porci degli obiettivi. Sviluppare una strategia idonea di marketing, valutare il target di riferimento e il budget che abbiamo a disposizione. Non tutti riescono a fare ciò, per cui il mio consiglio è quello di affidarsi a persone esperte del settore. Ad una agenzia di comunicazione con una serie di espedienti. Perché la reputazione che un'azienda ottiene attraverso queste strategie di comunicazione rappresenta la sua brand identity agli occhi del mondo. Un vero e proprio capitale sociale che necessita di cura e sviluppo costanti. La comunicazione aziendale è un vero e proprio investimento, poiché ha la funzione di ottenere un vantaggio competitivo. Per farsi conoscere dal mercato è necessario investire in maniera costante su di esso. Affidarsi ad un'agenzia pubblicitaria professionale consente di gestire e controllare questo investimento nel tempo. Come è organizzata un'agenzia di comunicazione? Ogni agenzia ha una sua particolare organizzazione e delle proprie e specifiche figure professionali che spesso variano in relazione alla grandezza dell'agenzia stessa, all'importanza del committente e al budget da gestire. La first comunicazione punta sull'integrazione di tutte queste aree, coordinando la gestione del brand nel processo comunicativo. Crea la campagna, organizza la promozione del prodotto, pianifica tutte le uscite pubblicitarie, genera e coordina rapporti con le agenzie di marketing, web marketing, stylist e uffici stampa per la gestione ottimale del flusso di lavoro dal concept al risultato finale. La mission è quella di costruire un ponte tra ciò che l'impresa davvero offre e ciò che le persone davvero desiderano. L'obiettivo di fondo è quello che le aziende abbiano successo, aumentino il loro fatturato e quindi il guadagno e la riconoscibilità del loro brand. La first comunicazione è nata nel 2008 e vanta sino ad oggi importanti collaborazioni con aziende italiane ed estere. Le tante collaborazioni con professionisti e tecnici specialisti hanno dato vita ad un team serio, capace e puntuale, seguendo l'azienda in ogni sua attività e creando quindi delle strategie comunicative vincenti. Comunicate bene, comunicate con energia, poiché si sa, chi ben comunica è a metà dell'opera. Grazie a tutti.